Al termine dell'eseguo di Sua Eccellenza Monsignor Raffaele Castielli, presieduta da Monsignor Giuseppe Giuliano nella Cattedrale di Lucera lunedì 6 agosto alle ore 10, la Salmana del Vescovo Castielli è stata trasportata nella Chiesa Madre di Faeto, paese che 91 anni fa gli diede ai Natali. Qui è stata accolta dal parroco Don Antonio Moreno, insieme con le autorità civili e militari ed ovviamente i parenti e i fedeli della parrocchia del Santissimo Salvatore. Da allora è stata esposta pubblicamente fino al momento della Santa Messa Vespertina delle ore 18 e 30, in cui la comunità parrocchiale aveva già in programma la celebrazione in onore del Santissimo Salvatore, cadendo in quel giorno la festa liturgica della trasfigurazione del Signore. L'indomani, 7 agosto, a porte chiuse, dopo le ore 8, il parroco Moreno, alla presenza dei nipoti, del sindaco, del brigadiere capo dei carabinieri, del progettista della tomba, dell'impresa edile e delle maestranze, ha dato lettura del telegramma di Cordoglio inviato a Monsignor Vescovo dal segretario di Stato Parolin, ricordando anche l'operato del Vescovo, che ebbe l'onore di accogliere San Giovanni Paolo II in diocesi a poco tempo dal suo insediamento, il 25 maggio 1987. Quindi è seguito un momento di preghiera, per poi procedere alla tumulazione della salma del primo Vescovo di Lucera Troia, nella tomba già predisposta sul lato sinistro, proprio all'inizio della navata principale della Chiesa Madre di Faeto.